Ed anche le ultime tre attività pomeridiane della seconda giornata del Castellabate Film Festival martedì 20 luglio sono giunte al termine, accompagnando i piccoli bambini fino alle 18, per poi dare spazio infine al primo talk show del festival alle 19. Tra i corsi pomeridiani ancora una volta si sono riproposti corsi di magia Country Dance dalle 15 alle 16 e 30 e animazioni 35 MHz dalle 16 e 30 alle 18. Tra i corsi di magia si è potuto assistere a nuovi trucchi davvero molto interessanti, con l'uso di semplici elastici che hanno sostituito l'anello della prima giornata. Work in progress anche per la Country Dance, con nuovi balli che hanno consentito e consentono tuttora di avvicinare i giovani fanciulli sempre di più a questa danza britannica. Infine l'animazione 35 MHz che ha visto i bambini dividersi in due squadre e scogitare una strategia e sfidarsi in tante fasi diverse.